Anche se siamo nel 2020, vi volevo portare comunque la lista delle migliori applicazioni e giochi dell'App Store 2019, classificate dalla stessa Apple. La lista non è una top 5 o top 10, ma ce ne sono diversi di elementi, infatti non li menzionerò tutti quanti, chiaramente. Ve li lascio per vostra pura curiosità in descrizione seguendo l'apposito link. Iniziamo con le app. Per iPhone Spectre Camera Deluxe Optics si aggiudica il primo posto. Essa utilizza la tecnologia AI per scattare foto professionali con una lunga esposizione in modo rapido e semplice. Per iPad il primato è andato a Flow, app creata da Moleskine. È una sorta di Photoshop che offre agli utenti vari tipi di pennelli per prendere appunti o persino realizzare disegni professionali. Per Mac la migliore Affinity Publisher di Serif Labs, azienda nota per le sue app inerente all'editing e all'illustrazione delle immagini. Con Affinity Publisher hanno introdotto un nuovo modo per creare layout per libri, giornali, riviste, poster ed altro. Per Apple TV, The Explorers ha la medaglia d'oro. L'app è un catalogo digitale completamente collaborativo di immagini della natura. Fotografi o videografi possono unirsi alla comunità per inviare il proprio lavoro. Tutti i contenuti possono essere mirati da chiunque sul proprio iPhone, iPad e persino su Apple TV. Per quanto riguarda i giochi, Sky Children of the Lights, sviluppato da Death Game Company, è il miglior gioco del 2019 per iPhone. Il gioco di viaggio è stato presentato in occasione di un evento a Apple nell'ambito delle dimostrazioni di Apple TV 4K, grazie alla sua straordinaria grafica. Hyper Light Dripter di Abilite è il miglior gioco per iPad, d'azione e avventura. È stato premiato più volte per le sue arti visive uniche. Per Mac invece abbiamo Grease di Devolver. La storia del gioco prevede il viaggio di una ragazza persa nel suo mondo, con un vasto universo di enigbi creati con arte. Apple ha anche scelto il miglior gioco disponibile su Arcade, la nuova piattaforma di gioco in abbonamento. Sayonara Wild Hearts è stata la scelta del 2019, creato da Annapurna Interactive. Ogni livello del gioco si svolge in una clip musicale in cui il personaggio principale deve correre ed affrontare ostacoli fino alla fine, con una colonna sonora straordinaria. Oltre a questo ci sono altri giochi e app che hanno caratterizzato l'App Store, superando importanti traguardi. Come detto all'inizio del video, potete consultare l'elenco completo delle migliori app e giochi del 2019 tramite il link lasciato in descrizione. Qual è stato per voi il miglior gioco o la migliore app del 2019? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.